Non solo campagna elettorale, non solo elezioni, il movimento giovanile della Lega di Francavilla Fontana, archiviate le regionali, torna a riunirsi, a confrontarsi, a strutturarsi, quasi a voler evidenziare che no, non si trattava di opportunismo preelezioni, ma di reale voglia di formare e di formarsi, partendo dalla solita sede di via Regina Elena. Abbiamo mantenuto la promessa, abbiamo iniziato prima della campagna elettorale a strutturare il movimento giovanile, che oggi è cresciuto ed è ben saldo, ben solido. Abbiamo nominato segretario e vice segretario due ragazzi che hanno delle capacità di aggregazione non indifferenti. Oggi la Lega Giovani conta un gruppo di ragazzi veramente numeroso. Ritengo che lo stato di salute di un partito si veda proprio dal modo in cui è strutturato e posso affermare che oggi la Lega a Francavilla è l'unico partito che probabilmente può vantare un gruppo giovanile così corposo, così organizzato e strutturato. Ad Antonio Leo, nuovo segretario cittadino, l'onore e gli oneri derivati dalla scelta elaborata dall'intero gruppo giovanile in provincia di Brindisi, guidato da Giorgia Fino al Vaglio, criticità del mondo giovanile da sottoporre alle attenzioni delle amministrazioni. Vogliamo far capire alla gente che anche noi ragazzi possiamo fare politica attiva. Noi innanzitutto ci vogliamo proporre, stando insieme ai giovani, ad ascoltarli e capire quali sono realmente i loro problemi e tramite Adriana Balestra portarli in consiglio comunale e cercare di risolverli.